Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con lo showcase di Cracker che a mani basse è uno dei migliori bounty festival e PC meta presenti nel gioco perché ragazzi, come vi ho detto nel video della Tire List, è veramente uno dei migliori counter attuali di Edward Newgate. Ovviamente queste partite sono state registrate dal mio socio Gaga che avete già avuto modo di conoscerlo nel mio canale attraverso le live quindi mi ha fatto questi tre video per portarveli qui su YouTube. Signori, let's go, vediamo cosa combina il nostro socio. Io non ho visto ancora il gameplay quindi li sto vedendo qui a caldo insieme a voi. E niente, vediamo un po' cosa combina. Ok, è andato a prendersi la D e via con il spam del primo biscotto. Ma thanks, ah, doggiato. Uh, ah sì perché aveva lasciato il pendente. BAMMA, sta skill qua è tanta roba. Il skill qua che ha è veramente tanta roba. Ok, eh mi sa che adesso qua Cracker ci va pesante. Mamma mia, mamma mia, bellissimo, bellissimo. È un gran PG, veramente è un gran PG. Adesso va alla B, così, va alla B. BAMMA! Minchia, raga, due Newgate stirati male. Gli ha stirati malissimo. Gli ha stirati malissimo. Mamma mia, Cracker. Ma cosa sei, Cracker? Cosa sei? Cosa sei, Cracker? Incredibile, incredibile. Cosa sei, Cracker? BAMMA! Beh, Shanks, scusami, cosa potigli aspettarti, sinceramente. Wow, wow, wow. Via, spam di biscotto. Lo spamma sto biscotto, è spammato lo sto biscotto. Eccolo qua che lo spamma il biscotto. Incredibile. Ragazzi, se mi sembra un po' assonato è perché ci sono svegliato letteralmente da pochi, però. Sto bene, ecco. Ok, via, pendenti, bam. Incredibile. Eo, barba bianca, è vero, ha messo a tacere tanti pg, però ha alcuni pg li ha fatti difendere. E Cracker era uno di questi. Mamma mia. Mamma mia, signori. Incredibile. Incredibile. Ma ha fatto veramente una party con assurda, eh. Ha fatto veramente una party con assurda. In un certo senso è anche meglio di Oden a Cracker. Hanno sia provato con 30 anni, però Cracker veramente come bounty festival, va ripreso terreno in una maniera assurda, assurda, assurda. Eh, è fortissimo, guarda, è fortissimo. Fortissimo. Vediamo con l'extreme che uscirà la prossima settimana. Se li farà perdere terreno o no, però intanto. Intanto è posizionato molto molto bene questo Cracker. Prima partita fatta, direi ottimo. E direi che possiamo passare al secondo match. Direi che si può passare al secondo match. Ok. Ok, anche qua ci sono un po'. C'è un barba bianca contro, va bene. Let's go. Ah, alla basta, alla basta Knight. Questi Tornadi sicuramente saranno un po' di un tralcio, però lo sento che riuscirà tranquillamente a giocare. Mamma, pinetto! Eh, il fatto che Cracker sia anti-status è veramente la cosa migliore di sto PG. Cioè, letteralmente ha la possibilità di procedere come un 3. Il soldato biscotto che spamma l'infinito. La skill 1 che fa un botto di danni. I suoi attacchi base sono fortissimi. Fortissimi. Eh, quando un PG è completo. Questo vuoi quando un PG è completo. Oh, prodoggiato. Eh, qua adesso. Eh, sì. Eh, sì. Aspettavo proprio quel momento. Aspettavo proprio quel momento. E spammiamolo sto biscotto. E spammiamolo. E spammiamolo. E spammiamolo sto biscotto. Grande Cracker. Grande Cracker. Vestiti. Vestiti veramente. Grande Cracker. Eh, adesso qua si zionda con la 1. Ah, no. Adesso, adesso. Ah, adesso. Ok. Bene. Ne ho rinforzato da Albert. Vabbè, ci sta. Ci sta. Ci sta. Ma adesso rientra in campo. Tranquillamente il buon Crackerone nazionale. Ok, siamo di nuovo in partita. Anche per poco vuoi Kaido. Bam. Skill 1. Amma. Oh, l'ha preso. Ma non c'è problema. No, alto in prima. Però, però. L'Uvra, sì, sì, ce la fa in tempo anche perché c'è il Tornado. E quindi scopia sicuramente Kaido. Benissimo. Oh, ha giocato veramente bene il socio, laga. Tanto di cappello per lui. Eh, adesso va a tira con un dritto. Adesso tira un dritto. Vabbè, non c'è problema. Non ha tirato il dritto all'ultimo, però. Va bene, lo stesso, va bene. Secondo match e ora andiamo a vedere il terzo e ultimo. Ovviamente, signori, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun video. In descrizione avete tutti i gruppi necessari che vi servono. Quindi, mi raccomando, ragazzi, passateci che vi fate soltanto che un favore. Ok, qui adesso abbiamo la terza e ultima partita. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. A drum. Ah, siamo a drum. Siamo a drum. Quindi il socio non è registrato. Che persona impeccabile. Che persona impeccabile, veramente. Faccio impeccabile. Faccio impeccabile. Ecco impeccabile. vai cracker vai come un treno contro l'imperatore più forte let's go ci sta ci sta raga ci sta ci sta un botto ci sta un botto ci sta un botto grande cracker grandissimo grandissimo ok bambam bambam più uno let's go cracker vicino a cracker let's cracker questo video non è stato maltrattato nessun barba bianca in questo video non è stato maltrattato nessun barba bianca incredibile incredibile mamma mia mamma mia incredibile beh signori che dire noi siamo a fine match io vi lascio con la fine di questo showcase e niente non ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao 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 Grazie per la visione! Grazie a tutti!